Cibi poco cotti e malodoranti, sono alcune delle lamentele che hanno manifestato i genitori degli alunni che frequentano le scuole di Chieti, dove offre il servizio mensa e dove gestisce il servizio mensa la ditta Lala Disa, ma non sono le uniche, ci sono altre osservazioni? Sì, in effetti da tanto tempo che ci arrivano delle segnalazioni sia da genitori ma anche da chi ha detto i lavori all'interno delle scuole che purtroppo i cibi che vengono distribuiti non sono della migliore qualità. Considerato che il comune di Chieti già da tempo ha istituito la commissione mensa che ha detto al controllo, noi abbiamo mandato di conseguenza una richiesta di convocazione per avere chiarimenti, perché non è possibile che parliamo di bambini da 3 a 5 anni che non riescono né a essere alimentati in maniera corretta e non riusciamo neanche a capire se alla data di oggi, considerato che siamo ancora sotto criticità Covid, bisogna rispettare tutti quei sistemi igienico-sanitari per evitare appunto i contagi e nonché come c'era già sulla prima determina il prezzo veniva aumentato perché bisogna fare le monodosi. Noi non sappiamo se alla data di oggi come viene distribuito, ma abbiamo una serie di reportaggi fotografici dove ci dimostrano che non vengono rispettate nemmeno le basi principali per una distribuzione almeno di controllo sanitario. Quindi mancherebbero anche le misure anti-Covid? Secondo la determina che avevamo all'inizio dove si presumiva un costo aggiuntivo per le monodosi, noi oggi non sappiamo, considerate che siamo ancora in una fase di Covid, se viene distribuito in quella maniera, per cui alla Commissione che abbiamo voluto mandare tutto e convocare chiederemo anche questi chiarimenti.